Allora, adesso siamo quasi in fase di chiusura, però molto a poco vi presento l'ultimo artista, poi ci sarà l'estrazione, vero Presidente? L'estrazione, poi faremo i saluti, daremo un altro appuntamento nel mese di febbraio, quindi tra poco lo faremo. Io chiamerei subito qui il nostro tecnico, cantante, amico, che ci collabora da tanto tempo, Aldo Vecchiotti. Buonasera. Allora, io a tanto generalmente gli faccio sempre quasi chiudere la serata, perché lui si mette là, cura tutto quanto, aiutato dai nostri amici, ma guarda adesso hai due collaboratori, vedi, validi, dai, un applauso. Ti metto sempre più importante. Un grosso applauso a tutti e due. A Franco e a Vino. Perfetto. Poi a noi sempre bellosi. Un altro applauso a tante di verità. Ok. Allora, ti è caduto qualcosa? Bene. Guarda, signor, non devi licenziare. Vi faccio ascoltare un brano di Franco Califano e uno di Buscaglione. E i titoli ci dico, io sono la... Sono con lei, Califano, e guarda che luna, Buscaglione. Signore e signori, a due e top. Grazie. Grazie. Io non so se ne stare qui O andarmene via Vivo bene una donna mia Ma una gran nostalgia Tu per me sei una malattia Che ho fatto il sangue d'amore Come un male che non lo è via Che decide di me Sto con lei Ma penso sempre a te E non dimentico Con lei che mi ama più di te Non provo la serenità È una donna bellissima Ma tra noi ci sei tu Tu che fai se io vado via Come vuoi senza di me Vorrei viverti un po' di più Lo vorresti anche tu Sto con lei Ma penso sempre a te E non ti dimentico Con lei vorrei sentirti io Ma questo non succede mai Io vedo E nel tempo tuo Con i pensieri di noi Grazie Grazie Sto con lei Grazie 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 Ciao Peduso Ciao 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 Bellura Bravo Guarda quel mare Grazie Che cos'è stare in questo salotto Una mare